Mi chiamo Padre Hajdu e vorrei ringraziare Padre Don Sergio che ci ha fatto cinque cisterni o vasche, tre sono lontani, un altro nelle montagne sopra, questo nel giardino della chiesa per fare il giardino che l'altra volta abbiamo piantato tante piante, tutti sono morti perché secchi, perché non c'era l'acqua. Adesso questo è pieno, vedrete da sopra, abbiamo finito l'altro giorno, tre giorni fa, con attaccare con il tupo dalla diga, per il futuro vogliamo anche fare quando piove, se non c'è l'acqua dalla diga, dalla montagna per mettere l'acqua. Comunque ringraziamo Don Sergio e i suoi volontari che ci ha aiutato questo. Questo giardino è molto antichissimo, di più di 130 anni fa che i missionari hanno cominciato nell'Etiopia forse che per prima volta, nel tempo di San Giustino, non San Giustino ma prossimi vescovi che hanno fatto qua, hanno trovato l'acqua, il posto, questo c'era il posto per animali, per giardino, perché nel tempo di loro non c'era la macchina, non c'era terreno, non c'era, come si dice, aereo, tutti camminavano con i piedi, anche portavano le spese con come si chiama, come asini, con l'asini, per questo motivo cercavano il posto per cercare erbe per questi animali, muli e tutto. Dopo piano piano hanno cominciato il giardino, questo giardino finché adesso stava, ma nel tempo di guerra di Eritida e Etiopia, due anni fa era vacante, niente che seguono o danno l'acqua, tutti i giardini, tutti i pianti di frutte sono secchi. Adesso, dieci anni fa, 2004, quando è arrivato da Roma, ho cominciato di nuovo, ha fatto tante cose, con l'acqua e non era abbastanza per dare l'acqua, per questo motivo ho chiesto questo cisterno. Speriamo che dopo un anno o dopo due anni tutto questo faremo verde. Grazie per gli italiani, grazie per tutti i volontari. Grazie a te.